Carrefour annuncia la chiusura del punto vendita di Camerano dal 31 marzo, doccia fredda davvero per i 90 lavoratori giovedì 11, è già previsto uno sciopero di 8 ore, sentiamo. Repentinamente l'ipermercato vuole chiudere, però noi faremo tutto il possibile per fare in modo che si allunghi la vita lavorativa di questi dipendenti, anche perché hanno un'età media troppo bassa per andare in pensione, ma troppo elevata per essere ricollocati. La doccia gelata è arrivata senza sirene ad annunciarla da lontano, solo una comunicazione confermata ai sindacati da parte della dirigenza per dire che il punto vendita di Carrefour di Camerano, annesso a Grotta Center, chiude i battenti il 31 marzo. Il tempo non depone a favore dei lavoratori, ma le iniziative e la conseguente attenzione sono partite. Il calendario prevede già due tappe, un incontro con la regione Marche il 9 marzo e uno stato di agitazione con sciopero di 8 ore, previsto per giovedì 11 marzo.